Un attacco da inventare è quello della Fidelisandri in vista della sfida alla Virtus Franca Villa in calendario domenica alle 15 al Dei Ulivi per la quarta giornata del girone H di Serie D. Le assenze di Yallo e da Silva sostituiti per infortunio nel corso del match pareggiato 0-0 a Matera e destinati a stop di almeno tre settimane porteranno Ciro Danucci a ridisegnare l'undici di partenza. L'allenatore, chiamato a consolidare la propria panchina attraverso le vittorie, risultato sin qui mai conseguito in un campionato che ha portato in dote tre pareggi contro Fasano, Brindisi e Matera, dovrà così attingere alla panchina per studiare un reparto avanzato nuovo di zecca o quasi. Di fronte alla capolista, squadra a quota 9 punti e allenata dall'ex Ciro Ginestra. In rampa di rilancio ci sono così i fantacci e gli urni, fattori determinanti nel 6-1 di Coppa Italia a Nardò del 1 settembre, ma da quel giorno parzialmente scomparsi dai radar. Con almeno uno tra l'ex Monterosi e l'ex Nocerina in campo e Marsico da riferimento avanzato, si potrebbe tornare a quel 4-2-3-1 abbandonato a Matera. Un'opzione che rimetterebbe in discussione la posizione di Kragl, scelto da trequartista allo stadio 21 settembre Franco Salerno. Il 34enne tedesco potrebbe muoversi nel cuore della batteria di fantasisti o spostarsi in fascia. Conferma possibile invece per De Angelis nel cuore delle operazioni, mentre in difesa tornerà a disposizione dopo aver scontato i tre turni di squalifica De Rosa. Pedina over, importante per consolidare la crescita di un reparto imbattuto negli ultimi due incontri, che passerà anche per la conferma del tandem Bonin-Sirri al centro. Dopo lo 0-0 di Matera, Danucci si è detto certo delle possibilità della sua Fidelis di concorrere fino alla fine per la vittoria del girone insieme a Nocerina, Casarano e Virtus Francavilla. I prossimi 180 minuti con la Virtus Aldegli Olivi e la Nocerina in trasferta, partita quest'ultima che Telesveva trasmetterà in diretta TV e social domenica 6 ottobre, hanno già il sapore di incroci da dentro o fuori per capire se l'Andrea farà parte del lotto delle squadre di vertice. Parallelamente, fuori dal campo, la piazza attende segnali di chiarezza sugli ultimi sviluppi in seno alla società dopo un inizio di stagione diverso rispetto alle aspettative, seguita un'estate con oltre 2.100 abbonamenti sottoscritti da una tifoseria oggi in fibrillazione.